Buonasera a tutti e a tutti, grazie di essere qui in presenza, saluto anche chi ci sta seguendo da remoto, ormai abbiamo questa consuetudine di fare le due modalità in presenza e da remoto, una cosa che abbiamo scoperto durante i vari lockdown ma che abbiamo acquisito come un'opportunità in più per allargare il nostro pubblico e i protagonisti di questo ciclo di Rileggere i classici per migliorare il presente, organizzato dall'Istituto Gramsci Toscano, dalla Società Filosofica di Firenze e dal Gruppo per un Nuovo Mondo Comune. Stiamo per concludere, questo è il penultimo incontro, l'ultimo ci sarà il 2 dicembre con Raffaella Baritono che parlerà di Audrey Lorde che è una femminista afroamericana e di Angela Davis, poi avvieremo un nuovo ciclo con l'Anno Nuovo. Allora stasera gli autori di cui parleremo sono due, Sartre e Heidegger, il titolo come avete visto è Sartre vs Heidegger e viceversa, forse bisogna sottolineare viceversa, Heidegger vs Sartre. Ringrazio molto Sergio Givone per aver accettato questo invito, d'altronde Sergio Givone è sempre una garanzia di chiarezza, di successo, di acquisizione di nuove conoscenze. Qui non avrebbe proprio bisogno di presentazione però io ricordo solo qualcuna delle sue opere, Sergio è un autore filosofo tra i più importanti del Novecento, è sempre stimolante e acuto nelle sue riflessioni filosofiche e letterarie, bisogna aggiungere. Tra queste non so, perché è un'opera molto filosofica, in realtà Tostoievski è la filosofia del 1984, nella quale opera Tostoievski viene letto nella prospettiva del nichilismo europeo. Da questa riflessione nasce anche la sua ricerca sulla storia del nulla, infatti c'è un'altra opera del 95 che si intitola proprio Storia del nulla. Poi ha scritto una storia dell'estetica, lui ha insegnato estetica all'Università di Firenze, disincanto del mondo e pensiero tragico, il pensiero tragico possiamo considerarlo un po' il filo rosso della sua ricerca filosofica. Un altro sull'infinito, tra gli ultimi, un po' mi incuriosisce perché non l'ho ancora letto, confesso, Fra terra e cielo, la vera storia della cubola di Brunelleschi che è uscita nel 2020 da Solferino. Allora, perché Heidegger verso Sartre, dicevo? Ma io faccio solo due o tre riferimenti storici per consentire a chi magari non ha presente tutta la discussione tra i due filosofi, tra i due filosofi, una discussione a distanza possiamo dire, e per giustificare anche il titolo. Allora, Heidegger, come sapete è uno dei filosofi più importanti del Novecento, nel 1927 pubblica un'opera che si intitola Essere il tempo. Essere è il tempo. È un'opera molto influente, che ha influenzato per l'appunto molta altra filosofia successivamente. In Francia quest'opera di Heidegger viene interpretata per creare una nuova corrente di pensiero, l'esistenzialismo. Il protagonista è Jean-Paul Sartre, autore, diversi anni dopo, nel 1943, di un'opera che invece si chiama L'essere è il nulla, l'essere è il tempo Heidegger, l'essere è il nulla, Sartre. Anche quest'opera è stata molto influente perché ha esercitato un'influenza larghissima sulla filosofia non solo europea. Nel 1945 Sartre fa una conferenza per spiegare a un pubblico più ampio, ai non addetti ai lavori, diciamo così, in che cosa consistesse il suo esistenzialismo. Questa conferenza sarà poi pubblicata l'anno successivo con il titolo L'esistenzialismo è un umanismo. Umanismo, dice Sartre, perché noi ricordiamo all'uomo che non c'è altro legislatore che lui, perché noi mostriamo che l'uomo si realizzerà precisamente come umano. Cosa succede poi? Succede che un seguace dell'esistenzialismo sartriano, si chiama Jean Beaufort, un giovane, scrive ad Heidegger, di cui era un grande ammiratore, ponendogli però alcune domande un po' insidiose per Heidegger e gli chiedeva, fra le altre cose, come ridare un senso alla parola umanismo, per l'appunto, e come mettere in relazione ontologia ed etica. Heidegger risponde con una lettera, che poi è diventata una celebre opera di Heidegger, che si chiama Lettera sull'umanismo del 1946. Quindi siamo proprio a ridosso della lettura che aveva fatto Sartre nel 1945. Ma la risposta di Heidegger sarà stata, mi immagino, per Jean Beaufort una grande delusione, perché Heidegger nega entrambe le questioni, cioè non dà una risposta positiva almeno a quelle due questioni che Jean Beaufort gli aveva posto. Quindi nega che la sua ontologia, esposta appunto in essere e tempo, possa essere interpretata come un umanismo e nega che ne possa derivare un'etica. Qui io non so che impostazione darà Sergio Givone alla sua lettura, sono anch'io curiosa di sentirlo. Però ecco, questi possiamo considerarli dei presupposti della relazione fra Heidegger e Sartre. Allora io gli cedo subito la parola e sentiamo Sergio. Grazie. Grazie, grazie a te Vittoria. Grazie intanto per le tue parole, come sempre più che generose e più che amichevoli. Grazie per questo invito e grazie a voi per essere venuti a sentire le poche cose che riuscirò a dire su questi temi, esattamente su questi temi, perché sono questi e questo l'orizzonte problematico di cui si tratta. Ma appunto per definirli, questi temi, dobbiamo partire da quelli che tu giustamente hai chiamato i presupposti storici. Le idee sono delle farfalle che non vanno da nessuna parte se non hanno dei fiori, un terreno, un luogo su cui posarsi. Quali sono questi presupposti? 29 ottobre 1945. 1945, pochi mesi dopo la fine della guerra. Nella sala di un circolo culturale parigino si tiene una conferenza diventata subito leggendaria, quella a cui tu hai fatto riferimento. Quella che sarà poi intitolata, che nasce come tentativo di rispondere alla domanda che cos'è l'esistenzialismo e che risponde precisamente alla domanda dicendo, sostenendo la tesi, che è poi il titolo della pubblicazione successiva, l'esistenzialismo è un umanismo. In che senso leggendaria? Nel senso che è la nascita di quell'esistenzialismo francese che sarà non solo un fenomeno culturale, non solo un evento filosofico, ma anche un fenomeno culturale, non solo un fenomeno culturale, ma qualche cos'altro, un modo di essere, uno stile di vita, l'inaugurazione di un vero e proprio mondo. Il mondo dell'esistenzialismo francese. Conferenza fin da subito leggendaria. Boris Vian la racconta, forse ci mette del suo, poi conoscendo il tipo altro che ce l'ha messo, ma fino a un certo punto dice che Sartre ha potuto incominciare a parlare solo due ore dopo perché non riusciva a fendere la calca della folla che era assiepata nella sala. Due, forse anche di più, si sono infilati in un tombino per saltare e cose di questo genere. Questa conferenza ha un'enorme risonanza. E in effetti Sartre riesce a puntualizzare, a mettere a fuoco alcune tesi e a dare a queste tesi un valore emblematico come a nessuno sarebbe riuscito né prima né dopo di lui quanto alla definizione di che cos'è esistenzialismo e se l'esistenzialismo sia o non sia una forma di umanesimo. Umanesimo, ma diciamo pure alla francese umanismo, noi abbiamo questa differenza che è opportuna fare perché l'umanismo, l'umanismus di cui parla Heidegger e l'umanismo di cui parla Sartre sono certamente, fanno riferimento all'umanesimo italiano, all'umanesimo fiorentino, ma non si riducono ad essi. Infatti sono il tentativo di tirar fuori dall'umanesimo fiorentino quello che propriamente, il proprio un filosofico, quello che propriamente quest'umanesimo ha da dire. E quindi manteniamo la differenza. Umanismo per intendere ciò che intendono Sartre e Heidegger, l'umanesimo fiorentino del XV secolo. Quali sono le tesi di Sartre in questa conferenza? le tesi castiche, emblematiche, risonanti? Sono tre. La prima, la libertà è una condanna. L'uomo è condannato alla libertà. Tenete presente che la domanda è chi è l'uomo, che cos'è l'uomo e quindi ecco una prima risposta a questa domanda. L'uomo, chiunque egli sia, è un essere libero e questa sua libertà, vediamo poi che cosa sia, è una condanna. Seconda tesi, l'essere dell'uomo non è propriamente un essere, ma è qualche cosa di più o di diverso. È uno stare sopra, uno staccarsi da, un emergere dall'essere ma per affacciarsi su qualche cosa che essere non è ed è più probabilmente il contrario dell'essere, perché è il nulla. In altri termini, l'essere dell'uomo è definito non dall'essere, tanto meno dall'essenza, bensì dalla esistenza. Esistenza è precisamente questo uscire da distaccarsi, affacciarsi, proporsi a fronte di ciò che contrasta l'essere ed è appunto il nulla. La terza tesi, tesi questa che suona, suonerà come l'esistenza viene prima e che già la troviamo nell'essere e nel nulla, ma che si troverà e sarà ribadita e ripetuta fino alla noia nelle opere successive di Sartre e soprattutto nella critica della ragione dialettica. Seconda tesi, l'esistenza viene prima dell'essenza e vedremo che cosa vuol dire. Terza tesi, anche questa icastica, celeberrima e ripresa la sola che Heidegger, non la sola, quella che Heidegger riprende per prima nella sua risposta alle domande di Jean Beaufort. La terza tesi, noi siamo su un terreno dove anzitutto, se non esclusivamente, si tratta di noi, si tratta di noi uomini, si tratta dell'uomo e non di altro, non dell'essere, non di Dio, non della trascendenza, di nient'altro, del niente, per l'appunto. Si tratta dell'uomo, centralità dell'uomo. Come argomenta queste tre tesi? La prima, quella sulla libertà, chiave anticantiana, la libertà è un'evidenza prima, non è l'ultima ragione che l'uomo chiama in ballo quando non sa più a che santo votarsi e dice ma dobbiamo postulare, esigere la libertà per spiegare questo groviglio di contraddizioni in cui versiamo. no, per Sartre non è l'ultima ragione, è la prima delle evidenze. Termine, notate, termine husserliano, evidenza, evidenza prima. Sartre viene da lì, viene da Husser e da Husser e a Husser è sempre rimasto in qualche modo fedele a differenza di Heidegger che pure viene da Husser salvo ampiamente già nell'opera del 27 superarlo e contestarlo. Per spiegare questa nozione di libertà Sartre fa il celebre esempio celebre perché sarebbe stato ripetuto in tutte le salse del giovane partigiano che decide si decide per la lotta armata pronto non solo a rischiare la sua vita ma anche la vita di sua madre. Questo giovane partigiano è un figlio unico potremmo dire figlio unico di madre vedova questo è l'esempio che fa Sartre e questa donna malata sola ha solo questo figlio e tuttavia il figlio il figlio sceglie la via della lotta armata chi gli dà il diritto di fare questo? L'imperativo categorico cantiano? Certamente no perché l'imperativo categorico cantiano obbligherebbe il giovane tanto ad assistere sua madre quanto allo stesso titolo e l'imperativo non può decidere la forma della legge non può decidere ma solo lui può decidere tanto scegliere la lotta la lotta armata ecco non la libertà non è il il postulato non è quella ipotesi che siamo costretti a fare per legittimare l'imperativo categorico né l'imperativo categorico legittima la scelta o meglio mi obbliga alla scelta che io faccio la scelta che io faccio non è legittimata da nulla non esiste una possibilità di dirimere la questione sto con mia madre o scelgo la 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 sono io e lo decido in assenza di qualsiasi presupposto lo decido appunto liberamente lo decido come al grado zero dell'esperienza questo è libertà secondo secondo sartre questo è il modo sartreano di riprendere l'idea umanistica ma nel senso dell'umanesimo fiorentino che era stato di picco della mirandola quando picco della mirandola dice che l'uomo è l'essere che a differenza di tutti gli altri esseri non ha un'essenza che poi vuol dire l'uomo è l'essere che a differenza di tutti gli altri esseri non ha una natura cioè l'essere non è determinato a essere quello che è dalla sua natura perché si autodetermina perché dà a se stesso la natura che vuole diventa quello che vuole e infatti può diventare angelo e può diventare bestia tema che poi sarà ripreso da Pascal per esempio della cultura francese questo che cosa significa? Significa per l'appunto che l'autodeterminazione cioè la libertà è questo prius assoluto senza presupposti è questo gesto insensato assurdo che non ha bisogno di giustificazioni che dà semmai tutte le giustificazioni successive all'essere dell'uomo al mondo se le cose stanno così abbiamo già la terza tesi belle che pronta se l'uomo è quell'essere che non ha un'essenza perché l'essenza se vogliamo chiamarla essenza la natura se vogliamo chiamarla la natura non è se non quella che lui dà a se stesso se le cose stanno così l'essere è al centro dell'esperienza che fa è il centro dell'esperienza che fa è lui a stabilirla questa esperienza è lui il fondamento di sé è un essere autogenerante si dice anche se non con queste parole ma la sostanza è questa è un essere libero in quanto produce il proprio essere la propria essenza la propria natura liberamente non gli è data da nessuno non è determinato da nessuno siamo su un terreno dove al centro c'è l'uomo e soltanto l'uomo il resto dimenticate però la trascendenza Dio quelle potenze quelle forze che animano tutto ciò che è al di là dell'uomo altro non sono che figure del nulla dire che siamo sul terreno dove al centro c'è l'uomo e soltanto l'uomo è la stessa cosa che dire l'essere e il nulla e così come di Heidegger si era già detto e si dovrà dire che l'essere e tempo in realtà andrebbe letto quel titolo come l'essere è il tempo così il titolo della celebre opera del 43 di Sartre l'essere il nulla forse andrebbe letto proprio nel senso più radicale l'essere è il nulla queste sono le tesi dell'operina della conferenza le tesi esposte da Sartre in quella in quell'occasione come ha ricordato Vittoria Jean Beaufort che era per esempio Jean Beaufort è un bellissimo una bellissima figura è un uomo che di grande modestia oltre che di grandissima intelligenza ma persone modeste lo sappiamo sono 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 intelligenti gli intelligenti sono sempre modesti comunque Jean Beaufort che non ha mai voluto Luigi Lupolini non è del tutto d'accordo ma insomma vale però per Jean Beaufort il quale ha fatto tutta la sua vita buona parte della sua vita come professore di liceo hanno detto no ma io non sono un filosofo non sono neanche un professore io sono un pedagogo io insegno la filosofia in realtà ha svolto una funzione importantissima di legame tra la filosofia francese e la filosofia tedesca è stato tra i primi ad accoggersi della grandezza anche della miseria del pensiero di Heidegger e ha continuamente ha continuato appunto a fare da mediatore tra era presente alla conferenza e subito si mette in contatto con Heidegger gli dice che cosa che cosa era successo che cosa si era detto riassume perfettamente la la questione lo invita addirittura lo invita a Parigi dice ma professore venga venga a sostenere era il 45 era già stata nominata la commissione che avrebbe che avrebbe condannato Heidegger di fatto di lavori forzati perché questo ne ha fatti pochi poi di lavori forzati sarebbe anche stato subito dopo poco dopo riammesso nei ruoli eccetera eccetera ma lasciamo stare comunque erano quei mesi lì ma nonostante questo l'entusiasmo di Beaufort è tale che invita il professore a rispondere a prendere posizione a venire e gli fa appunto queste domande ma la sua ontologia professore quella di Heidegger ma anche quella di Sartre è una ontologia non è filosofia dell'esistenza Heidegger tutta la vita ha detto e lo diceva già allora la filosofia dell'esistenza ist eine Sache von Jaspers è una cosa di Jaspers non è cosa mia la filosofia dell'esistenza ha maggior ragione nell'esistenzialismo e lui che appunto voleva essere fare della dell'ontologia accoglie questa domanda ma questa sua ontologia è o non è umanistica è o non è una forma di di umanesimo e risponde e risponde che no è o non è una forma di etica ricordate l'esempio del partigiano tutto si annoda intorno alla scelta etica dell'uomo e lui gli risponde ma a me dell'etica non importa un fico secco con una brutalità degna degna di miglior causa non solo ma a Boffrey dà una risposta che che non possiamo di cui non possiamo non tener conto perché è la risposta del professore non immotivata se dovessimo dire brutalmente ma chi aveva ragione alla fine della fiera su questo punto tenderei a dire insomma Heidegger fa un passo in più rispetto a Sartre ma comunque Heidegger la risposta che dà Boffrey la dà come il professore ma non rivolto a Boffrey rivolto a Sartre come il professore il vecchio professore che non era poi così vecchio allora tratta il suo studente Sartre più brillante ma anche suo studente brillante e presuntuoso presuntuoso e 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 da studentello brillante finché si lui è dell'89 Heidegger e Sartre del 5 e quindi 16 anni sì e quindi giusto la distanza che ci può ma Sartre aveva già pubblicato l'essere il nulla non era alle prime armi l'essere il nulla è quel gran libro che che sappiamo adesso che ne pensi Heidegger l'essere il nulla resta uno dei libri capitali del del novecento ma nonostante questo il professor Heidegger guarda Sartre così con degnazione con supponenza semmai con una benevolenza condiscendente di chi però sa di avere partita vinta che cosa gli fa pensare questo ad Heidegger o meglio quali sono le obiezioni che fa Heidegger alle tesi di Sartre soprattutto una di ordine squisitamente filosofico anzi storico filosofico dice ma caro Sartre lei cosa crede di dire non si non si rivolge mai a Sartre ma a boffrè per interposta persona cosa crede allora diciamo così cosa crede di dire questo Sartre ma dice quello che ha detto Sant'Omaso d'Aquino a Sartre Sant'Omaso d'Aquino sì perché era stato Sant'Omaso d'Aquino a distinguere nel celebre trattato de S et essenzia a definire cosa che in Aristotele ovviamente non c'è per la prima volta il concetto di esistenza e a definire l'esistenza esattamente come quella che viene prima rispetto all'essere perché l'esistenza in che senso viene prima rispetto all'essere l'esistenza è un atto di libertà un doppio atto di libertà doppio nel senso che riguarda sia Dio sia l'uomo è Dio dice Sant'Omaso in quel famoso trattato che Heidegger non cita ma è quello sicuramente è Dio l'essere l'essere che coincide con con la sua essenzia detto in altre parole è Dio che esiste necessariamente è Dio che è in fondo l'essere di Aristotele è Dio che è in fondo l'essere di Parmenide l'essere che non può non essere l'essere che sarebbe contradditorio pensare come non esistente ma questo vale per Dio non per l'uomo l'uomo l'esistenza la riceve da Dio gratuitamente potrebbe benissimo non esistere niente nessuno mi dice che l'uomo debba esistere necessariamente l'uomo esiste in forza di un atto di creazione appunto l'atto divino per per eccellenza ed è questo che fa dell'uomo un esistente un un dasain e cioè un qui e ora di qualche cosa che lo trascende e che si manifesta in lui è in forza del quale soltanto è quello che è magari uno che come volevano gli umanisti i quali fa notare Heidegger restano perfettamente all'in no prego se non è d'accordo dica pure se le cose stanno stanno così dice Heidegger ma qui siamo nella più perfetta più più piena tradizione metafisica e così come metafisici così come la metafisica di Aristotele è quella che San Tommaso utilizza in chiave cristiana per spiegare per dare ragione della dell'esistenza e quindi della creaturalità e quindi della libertà dell'uomo quell'uomo che non è se non quello che vuole essere tanto è vero che è colpevole o innocente di fronte a Dio meritevole o non meritevole di fronte di fronte a Dio e lo stesso vale per gli umanisti i quali per l'appunto attribuivano all'uomo questa capacità di darsi una natura cioè di essere quello che vuole essere o quello che deve essere di corrispondere o non corrispondere all'appello che gli viene da Dio ma questa dice Heidegger caro Sartre è metafisica della più bell'acqua è vero che lei questa metafisica la rovescia nel senso che la tesi finale è al centro siamo su un terreno dove al centro c'è l'uomo e non l'essere e non Dio e non la trascendenza ma questo rovesciamento questo rovesciamento da una filosofia della trascendenza a una filosofia dell'immanenza e dell'immanenza più radicale è un rovesciamento che avviene all'interno della metafisica con categorie totalmente totalmente metafisiche quindi caro Sartre non è successo proprio niente lei vuol dire che l'esistenzialismo è un umanismo e vorrà dire che l'esistenzialismo è l'erede di una tradizione metafisica che resta ben salda sulle sue sulle sue posizioni con buona pace di tutti coloro che vorrebbero invece nell'esistenzialismo vedere un elemento di novità di rottura con la tradizione di profonda di profonda innovazione insomma il professore non era lì per caso cioè al centro della scena filosofica europea con tutti con tutte le sue miserie le sue infamie le sue i suoi occhi inquietanti non era lì per niente insomma l'allievo non si dichiara affatto ma di fatto è touché tanto è vero che disconosce il contenuto della conferenza quel contenuto della conferenza doveva essere il manifesto dell'esistenzialismo del nuovo esistenzialismo dell'esistenzialismo francese a capofila del quale ci sarebbe stato Sartre viene viene negato cioè Sartre dice sono stato frainteso perché dovendo semplificare le mie le mie tesi era solo una conferenza questa semplificazione mi ha impedito di dire di esprimere veramente il mio pensiero e quindi non dovete prendere quelle tre tesi insomma ciò che ho detto in quella conferenza come il mio stesso il mio stesso pensiero e tutto il resto della sua vita andrà appunto nella direzione di una chiarificazione e auto chiarificazione di che cosa è esistenzialismo alla luce delle obiezioni che gli aveva fatto Heidegger e che gli avevano letteralmente tolto il terreno da sotto i piedi quello che Heidegger lascia pensare o vorrebbe che gli altri pensassero è che lui sì invece cioè Sartre abbiamo capito è l'ultimo erede di una tradizione metafisica e non sa di esserlo ma poverino venga qui che glielo spiego lui sì invece ma questo lui sì invece cioè il fatto di essere lui Heidegger titolare di un pensiero capace davvero di porsi come altro rispetto alla tradizione metafisica di porsi come profondo rinnovamento del pensiero filosofico finalmente libero da questa pregiudiziale metafisica c'è non c'è è credibile in che cosa in che cosa consiste beh così come noi il percorso compiuto da Sartre dal 1945 al 1960 fino al 1980 data della della morte soprattutto nel 1960 data di pubblicazione della Critique della Raison Dialectique questo questo lavoro che ha un analogo in Heidegger perché così come Sartre lavora quest'opera monumentale e di difficilissima lettura labirintica dove è davvero difficile venire a capo del 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 filo che che lega tutti i pensieri e così via lo stesso si può dire di Heidegger perché tutto il lavoro compiuto da Heidegger da quel fatale 1945 in poi la svolta e ciò che segue soprattutto se andiamo a vedere gli otto volumi di quell'opera che solo da poco siamo in grado di leggere chi se la sente chi ha voglia di 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 imbarcarsi in questa in questa avventura chi l'ha fatto il nostro amico Franco Franco Volpi ne è rimasto disorientato quest'opera intitolata Fom Eraignis dell'evento e che vuole essere appunto il manifesto il manifesto di più lo svolgimento di un nuovo pensiero un pensiero che appunto non muove dal dal principio stabile di inconcurso della metafisica non muove dal principio di non contraddizione non muove dall'idea che l'essere è e non può non essere l'essere è necessariamente e così via ma un altro pensiero un pensiero dove l'essere non sia questa cosa non sia oggettivabile dimostrabile ma sia altro andate a vedere quali sono i risultati secondo secondo Franco Volpi è sgomentante il ma io nonostante le due i due percorsi diversi e che non posso qui ma neanche per sommi capi riassumere tanto sono complessi e labirintici e oscuri in primis a chi vi sta a chi vi sta parlando però nella diversità dei due percorsi c'è qualche cosa che li che li unifica anzi c'è il punto di partenza che è analogo se non identico e qual è il punto di partenza qual è la categoria da cui partono essere nulla sembrerebbero sembrerebbe essere questo il gioco la posta in gioco sì certo saranno soprattutto queste le categorie essere in tutte le sue declinazioni secondo Heidegger essere nella declinazione propriamente esistenzialistica l'esistenza viene prima dell'essere l'essere come libertà e non come necessità secondo secondo Sartre ed è questo che Sartre tiene fermo per tutti i 35 anni della sua vita restante l'essere come libertà e non come necessità l'essere l'essere come progetto e come proiezione e non come stato di di fatto insomma l'essere come evento e non come realtà l'essere che dunque non è più oggetto di una ontologia l'ontologia è la scienza della realtà ma oggetto di un'altra di un'altra scienza la dialettica nel caso di di Sartre e qualche cosa che non si sa bene che cosa sia pur sempre la filosofia ma non la metafisica nel caso di Heidegger sì certo essere e nulla sono pur sempre le categorie intorno a cui i due per 35 anni lavoreranno e si scorneranno e si ma c'è un'altra categoria che va che va scovata proprio in quella fase iniziale del loro del loro del loro discorso e la categoria è la categoria una categoria molto lontana sia dall'uno che dall'altro sia l'uno che l'altro erano lontanissimi dalla teologia cattolica e invece questa teologia invece questa categoria la troviamo proprio lì la categoria di inferno di cui non si può fare a meno bisogna partire da lì per capire che cosa accade dal 1945 partire dalla frase di sa l'inferno se l'esotro l'inferno sono l'esotro l'inferno sono gli altri a partire dalla frase di Heidegger l'inferno sono i campi i campi di concentramento no i campi sono più che l'inferno guardate anche Sartre dirà come dire modulerà in questa chiave questa benedetta categoria teologica dell'inferno più che l'inferno che cos'è più che l'inferno più che l'inferno peggio che l'inferno al di là dell'inferno sia per per Heidegger sia per Sartre nel 1945 e a partire dal 1945 è il mondo così com'è è il mondo moderno è il mondo che si squaderna davanti ai nostri occhi è il mondo in cui al centro c'è l'uomo secondo Sartre al centro c'è tutto meno che l'uomo secondo Heidegger ma mondo in ogni caso infernale è più che infernale mondo in altre parole parole sia di Sartre sia di Heidegger perfettamente disumano questo è il punto per Heidegger e per Sartre umanesimo o anti-umanesimo umanismo o anti-umanismo sono l'inizio di un discorso che muove da uno sguardo gettato sul mondo e che ci dimostra che il mondo è questa cosa qui è un inferno più che inferno allora chiariamo intanto che cosa vuol dire questo inferno più che inferno ce lo chiarisce in un momento in cui rivela qualche cosa dell'incontro con Heidegger Zeylan Paul Zeylan il grande poeta ebreo una famiglia sterminata nei campi per Heidegger i campi sono più che inferno perché sono il perfettamente disumano i campi sono più che inferno perché nell'inferno esiste pur sempre il bene e il male meglio solo il male ma è pur sempre testimonianza dell'inferno che se c'è il male da qualche altra parte ci sarà il bene se c'è l'inferno l'inferno non ci può essere se non c'è anche il paradiso il mondo in cui c'è l'inferno un mondo infernale è ancora un mondo dove c'è il bene e il male è un mondo al di là del bene e del male un mondo perfettamente disumano è peggio che infernale un mondo dove non c'è salvezza per nessuno quel mondo che secondo Heidegger con quella sciagurata assimilazione però è il mondo dei campi in un senso o nell'altro campi di concentramento e campi ridotti a oggetto di sfruttamento dove la vita è totalmente disumanizzata ecco l'inferno se les autres l'inferno sono 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 gli altri è la stessa cosa è il mondo in cui non c'è più né bene né male è il mondo che impone un nuovo inizio chi aveva fatto cenno in questa direzione aveva invitato a guardare in questa direzione cioè al fatto che tutto il discorso sull'umanesimo e sull'antiumanesimo in realtà nasce dalla consapevolezza di entrambi che l'uomo si era affacciato su un mondo perfettamente disumano è questo che impone il nuovo inizio impone di pensare umanisticamente secondo Sartre o al di là dell'umanesimo secondo Heide è il fatto che il mondo così com'è è perfettamente disumano il mondo moderno quella modernità che è così cara a Sartre stamp moderno è il titolo della sua rivista era già ben prima il titolo della quella grande rivista ma la modernità che cos'è? la modernità è quella cosa lì la modernità è il disumano Sartre scrive la critica della ragione dialettica nel tentativo di gettare le basi di un umanesimo al di là no no è così grazie a quel meglio e se noi andiamo a vedere un passo indietro chi è che aveva dato per prima per primo l'indicazione di questa diagnosi che è l'esistenzialismo l'esistenzialismo di Sartre che Sartre chiama così esistenzialismo ma anche l'esistenzialismo di Heidegger che non si chiama così che lui non volesse fosse chiamato così che è ontologia ma che non è neanche più ontologia perché è ontologia troppo simile alla metafisica che è un'altra cosa ma sia quello che sia un'altra cosa è una filosofia che ci costringe ad aprire gli occhi sull'inferno del mondo contemporaneo chi? Jonas Jonas uno che era stato non tanto allievo quanto compagno di Heidegger alla scuola di Husser e poi vicino ad Heidegger aveva scritto negli anni 30 un libro sulla gnosi sulla gnosi antica che lui riprende in quegli anni in tutta una serie di saggi molto in cui applica le categorie della gnosi antica per leggere il contemporaneo per leggere la modernità e cosa dice ma guarda dice Jonas ma questi qui sono degli gnosi questi qui Sartre da una parte e Heidegger dall'altra sono degli gnostici antichi cosa credevano gli gnostici antichi gli gnostici antichi che deve che l'uomo fosse un disgraziato gettato su questo nudo scoglio che è la terra senza sapere perché Gevorfenheit è la categoria chiave guardate la categoria di gettatezza di essere gettati su un nudo scoglio in un mondo dove tutto è in un senso quindi è al di là del bene e del male è al di là questa questa categoria di Gevorfenheit è importante tanto in Heidegger quanto in Sartre l'abandon l'uomo abbandoné abbandoné a sua mem l'uomo che vive la libertà come una prigionia come essere condannato alla libertà è l'uomo abbandonato l'uomo gettato ecco dice dice Sartre senza riferirsi a Jonas sì è così ma proprio perché è così ecco l'importanza di un gesto che inauguri che rompa questa prigionia che inauguri un nuovo mondo nuovi spazi di azione proprio perché è così dice dice Heidegger occorre ripensare ab origine questa nostra storia sciagurata che ci ha portati all'inferno più che inferno Jonas Jonas è quello del principio responsabilità è un filosofo di tutto rispetto ma rispetto a questa categoria di Heidegger Wolfenay c'è quanto mai utile per capire non solo quello che accade con gli otto volumi Fom Ereignis dell'evento di Heidegger oppure per capire la critique della raison dialettique ma per capire quello che viene dopo soprattutto di Heidegger è stato pubblicato praticamente tutto ciò che ha scritto dopo di Sartre no e qui si apre un capitolo con cui vorrei concludere questo mio discorso che è tuttora aperto ma dei più interessanti cioè gli ultimi scritti di Sartre dopo la critica della ragione dialettica sono gli scritti di un uomo certamente provato provato intellettualmente e sfido ma anche provato fisicamente malato per tutta la vita era stato Sartre aveva reagito facendo uso in modo pesante non soltanto di medicine ma di vere e proprie droghe insomma gli scritti successivi alla critica della ragione dialettica sono molto discutibili in gran parte non pubblicati censurati censurati e qui appunto apriamo un capitolo dove Simone de Beauvoir solo per citarne una o comunque la persona a lui più vicina non ci fa certo una bella figura solo due anni dopo la morte di Sartre Simone de Beauvoir ha dichiarato che tutto quello che ha scritto Sartre negli anni negli anni settanta altro non è che l'espressione di una di una mente precocemente senile e malata e insomma non non più stabile o non più di tanto sono 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 scritti impressionanti perché dimostrano come davvero e questo vale anche per Heidegger questi due grandi pensatori siano andati a finire là in quell'inferno più che inferno sottolineato da sottolineato da da Jonas e da quell'inferno più che inferno abbiamo cercato disperatamente di 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 uscirne Heidegger con quei con quella riflessione sull'evento che è quanto di più vertiginoso e lasciatemelo dire oscuro se non incomprensibile che sia mai stato mai stato scritto secondo Franco Volpi non solo molto più fumo che arrosto ma solo fumo e niente e niente arrosto e se andiamo a vedere Sartre no invece sono anche troppo comprensibili ma certamente contradditori certamente fanno segno di uno che che non sa come uscire dalla prigione in cui si è ficcato ipotizza mi limito a dire questo di fronte allo stato di cose denunciato dall'ontologia ipotizza due sole vie da una parte il terrorismo dall'altra la mistica questo è Sartre figuriamoci la Simone de Beauvoir il suo Jean Paul che evoca il sogno di Dio in uno di questi scritti si parla che è solo un sogno certamente e tuttavia non possiamo fare a meno di sognare rientra qui l'idea kantiana della libertà come qualche cosa che possiamo soltanto postulare ipotizzare assolutamente impossibile da pensare ecco lo stesso vale per Sartre il concetto il concetto di Dio e dall'altra parte il terrorismo scrive alcune pagine sul terrorismo in cui giustifica il delitto che serve a compattare la 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 compagine terroristica come come lui la chiama sempre e solo il delitto il sangue direte ma ha ragione Simone questo oramai ha perso la trebisonda eppure io vi dico che non dico di prendere come oro colato eppure fanno segno questi scritti di qualche cosa che che merita che merita pensare con con tutto il dolore il timore il tremore che prende a leggere a leggere quelle pagine pensate che l'unico anzi gli unici due che sono che hanno avuto il coraggio di commentare quegli scritti almeno in Italia è stato Enrico Fensi Enrico Fensi un terrorista studioso di di Petrarca e terrorista quello a capo delle brigate rosse non proprio un terrorista che passava lì per caso da da pensare allora lo liquidiamo come segno di un impazzimento di una grande mente sì possiamo anche fare questo però possiamo anche leggere quegli l'altro insieme con Fensi guarda un po' è stato Negri che ha legato questo gesto di rottura questo momento di puro terrore che dovrebbe far saltare le griglie del pensiero a un passo di leopardi state un po' così come Fensi ha legato questa sua riscoperta del terrorismo in Sartre a Petrarca il vecchio Petrarca che dice no finito tutto Laura è morta il mondo non ha più senso il mondo in realtà e allora che cosa ci può salvare soltanto un miracolo Sartre riprende scusate frasi frasi del genere e noi noi le rimuoviamo come come inaccettabili non è mai una buona una buona cosa non è mai una buona regola censurare alcun che anche se sospetto delirium tremens grazie davvero grazie a Sergio Givone per questa ampia bella e stimolante interessante panoramica su un bel pezzo di produzione filosofica a metà degli anni a metà del secolo del novecento certo ci sono anche molti punti problematici nel discorso che Sergio Givone ha fatto naturalmente la discussione è aperta chi volesse fare delle domande volevo sottolineare rispetto alle ultime cose che diceva Sergio sulla produzione sartriana che un altro volumetto che è stato pubblicato postumo sono le interviste a Bennile V che sono uscite anche in Italia di recente che si intitolano la speranza oggi sono delle interviste nelle quali sartre certamente si rivela un filosofo diverso nelle quali quasi rinnega l'essere il nulla e qui parla appunto di speranza di messianesimo di fratellanza voleva concludere la sua carriera filosofica con la costruzione di un'etica che era il suo vecchio pallino l'etica no? poi proprio negli anni negli anni 40 nei primi anni 40 lui lavorava ai quaderni per una murale che poi sono state pubblicate anche in Italia postumi negli anni 80 in Italia in Francia prima di tutto prima che in Italia quindi diciamo che è un sartre sicuramente molto tormentato come tu come tu hai detto io ho una curiosità perché quando tu hai parlato del rapporto fra Heidegger e Sartre sulla sul rapporto a loro volta fra ontologia ed etica e parlando di Heidegger hai detto che secondo te Heidegger fa un passo in più rispetto a Sartre ecco sono curiosa di capire in che senso fa un passo in più rispetto a questo a questo problema e su libertà e necessità io qui però vedo una grande differenza fra Heidegger e Sartre perché come tu hai giustamente sottolineato la libertà è un elemento caratterizzante l'essere caratterizzante l'uomo l'uomo non si può sottrarre alla libertà è gettato appunto nella libertà la libertà è ciò che lo identifica in qualche modo invece per Heidegger se ho letto bene le sue opere questo essere è un essere che dà dei comandi come dire fa le funzioni quasi di Dio è un essere necessitato mi era appuntata qui l'interpretazione che dà Arendt nella vita della mente su questi passaggi heideggeriani l'uomo risponde obbediente all'essere e quindi non ha la libertà non ha la libertà ecco in che cosa consiste poi il rinnegamento dell'etica per lui come dire all'essere si addice l'abbandono il lasciare essere non c'è la volontà mentre certamente anche Sartre rispetto a Kant ha un delle differenze ma sicuramente in Heidegger Kant non esiste con la sua autonomia con la ragione legislatrice ecco questi sono alcuni dei passaggi che a me fanno problema però prima poi Sergio risponderà insieme e darà una risposta unica alla fine se tra di voi c'è qualcuno che volesse prendere la parola e chiedere chiarimenti o fare delle osservazioni naturalmente anche da remoto chi ci sta seguendo da remoto può intervenire sulle chat e poi noi leggeremo le domande eventuali ci sono tanti filosofi in sala quindi ecco Giovanni Mari c'è non c'abbiamo un un altro non è facile intervenire su questa bella conferenza di di Sergio Givone che è anche un'interpretazione ovviamente anche un'accentuata interpretazione il mio giudizio è che entrambi i protagonisti della nostra serata non ne escono molto bene come intellettuali che aiutino l'umanità ad andare avanti su questa su questa faccia della terra però però io sto dalla parte di Sartre sto dalla parte di Sartre almeno fino ad un certo punto in fondo Heidegger semplifica un po' le cose anche se è incomprensibile per altre e certamente non è un filosofo semplice però in fondo stringi stringi per quello che io posso aver capito Heidegger l'umanità ha fatto un grande errore che l'ha portata dove l'ha portata all'inferno soprattutto perché si è fatta vincere dalla metafisica cioè perché il pensiero è stato un pensiero metafisico il pensiero metafisico l'ha portata necessariamente ad una serie di scelte di atti il pensiero metafisico è anche violenza e anziché il fatto che ha posto l'ente al posto dell'essere è la causa fondamentale di come siamo arrivati intanto dove siamo arrivati all'inferno l'inferno di Heidegger è diverso dall'inferno di Sartre l'inferno di Sartre è oggetto di critica l'inferno di Sartre l'inferno di Heidegger è appunto un risultato anche quello di Sartre è un risultato è un risultato della storia qui secondo me c'entra poi in fondo il giudizio sulla modernità che può e qui è ciò che non mi persuade anche della tua interpretazione cioè in fondo questa modernità non è l'inizio di tutto il campo di concentramento ma perché si pensava forse che le miniere di Laudanio in Spagna o la miniera dei Greci catturati dai Siracusani a Siracusa non fossero ugualmente l'inferno dei campi di concentramento cioè l'antichità è anch'essa un inferno non è soltanto la modernità un inferno secondo me la modernità è meno inferno dell'antichità oppure che so delle colonie delle colonie in America dove i condottieri e anche i preti in nome della cattolicissima Spagna hanno fatto quello che hanno fatto distruggendo inferni anche quelli quindi l'inferno non è soltanto la modernità la modernità ha anche la sua isolata infernale ma non lo è solo e questo quindi l'idea della libertà di Sartre non è un vincolo non è un vincolo è un po' è metaforico dire che è un vincolo è il modo di essere è il modo di essere certamente non è c'è un elemento profondamente anti aristotelico in Sartre cioè l'esistenza non è un passaggio dalla potenza all'atto quindi in questo anche Pico della Merandola è profondamente anti aristotelico in fondo l'uomo è quello che si costruisce e come si costruisce ed è i risultati della sua volontà e anche della sua libertà ma questa libertà è termino questa libertà di Pico la libertà di Sartre non è la libertà non è determinata da un paradigma di ente metafisico che è stato posto a posto dell'essere come è in fondo per Heidegger per il quale la libertà appunto vive soltanto nell'ente della metafisica mentre nell'essere il soggetto è come io non l'ho capito è Reignis il soggetto com'è Reignis dove lo ritrova il soggetto Heidegger a parte quello che nella sua prolusione a suo tempo e il suo lato lo lo ha anche che soggetto il soggetto politico che lui a un certo punto da cui ha affascinato è quello l'Reignis ecco grazie altri e nel frattempo leggo una domanda che arriva da YouTube da Beatrice Ingrilli Beatrice chiede se nel tuo libro non c'è più tempo ti sia ispirato a Sartre per analizzare il terrorismo e la potenza del negativo altri ora forse puoi cominciare intanto a rispondere e poi vediamo se altri si decidono a intervenire Vittoria le tue due domande più di due ma insomma almeno queste Heidegger che avrebbe compiuto un passo in più rispetto a Sartre sì nel senso che credo sia difficile dare torto a Sartre ad Heidegger quando rimprovera a Sartre di operare un rovesciamento della metafisica all'interno della metafisica con le categorie della metafisica e quindi di fatto scrivendo un nuovo capitolo di quella stessa tradizione che lui non rovescia affatto o se rovescia rovescia però restando dentro a ciò che rovescia e quindi prolungandola se questa critica di Heidegger per esempio alla nozione di libertà in Sartre come nozione ancora umanistica libertà è quella per cui l'uomo dà a sé la propria la propria essenza libertà come autodeterminazione se è fondata allora bisogna riconoscere ad Heidegger quanto meno di essere consapevole del limite di un pensiero e in questo senso lui ha fatto un passo in più nella direzione di una consapevolezza critica appunto maestro allievo questo è un po' il rapporto questo non significa dire e non glielo attribuirei dire che Heidegger ha effettivamente aggiunto o inaugurato una strada nuova e diversa lo ha fatto ma i risultati sono ancora tutti da da valutare il tentativo che qualcuno è abbastanza deludente quello che io posso dire in proposito è che non ce lo vedo più di tanto questo passo questo passo in più tolta quella consapevolezza che effettivamente c'è e che possiamo considerare a suo modo un passo in più rispetto a libertà e necessità è verissimo questi sono i due concetti su cui adesso facciamo stare le 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 questioni di lana caprina un certo eccesso di definizione restiamo libertà necessità qualunque cosa vogliano dire queste due nozioni libertà la dobbiamo applicare a Sartre caratterizza il pensiero di Sartre ed è verissimo il pensiero di Sartre è etico perché è un pensiero della libertà e l'etica è libertà non esiste etica tolta tolta la libertà anche Heidegger parla di malavoglia poi sempre mettendo le mani avanti dicendo sì adesso dico libertà però libertà è un concetto equivoco eccetera eccetera anche Heidegger parla di di libertà o di se non autodeterminazione di nuovo inizio di carattere sorgivo dell'evento interpreta l'evento appunto come Ereignis e come lo interpreta facendo notare che Ereignis vuol dire Ereigen cioè appropriarsi fare proprio ciò ciò che è un dato di fatto ciò che mi lega che mi costringe i propri altri della propria vita per esempio non ho scelto io di 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 nascere non ho scelto io di essere quello che sono avrei voluto essere un altro e tuttavia sono me stesso a misura che mi approprio mi riconosco in quello che sono sia pure in forza di forze che che mi trascendono ecco quindi si avvicina alla nozione di di libertà però Ereignis non è non è libertà è appropriazione rendere proprio l'estraneo non è libertà questo rendere proprio l'estraneo attenzione è molto vicino a Sartre tra l'altro quando Sartre precisa l'esempio del del partigiano e dice quello che vale per il partigiano vale per qualsiasi ragazzo che riceve la cartolina di leva e può certo che deve andare e se non va lo ammazzano e la sua vita coincide col fatto di dire sì alla cartolina precetto ma può sempre dire no può sempre dire benissimo allora ammazzatemi io questo anche questo è Ereignis cioè io divento io nel momento in cui dico no la mia vita finisce ma mi sono appropriato di me stesso non sono semplicemente un murattino non sono semplicemente nelle mani nelle mani di altri ecco da questo punto di vista i due si avvicinano anzi è Heidegger che che sembra avvicinarsi a Sartre ma l'evento è l'evento è qualche cosa che chiama in causa l'essere l'evento mai potrò spiegarlo sulla base di un unonesimo fondato sull'autodeterminazione sul fatto che l'uomo dà a se stesso le essenze e così via l'evento chiama in causa l'essere ecco questo è il passo in più se mai ne ha fatto uno di Heidegger rispetto a Sartre che è precisamente il passo che Sartre non vuole fare perché Sartre vuole negare il riferimento alla trascendenza all'essere vuole restare sul piano dell'esistenza ma così facendo dice Heidegger tu rinunci alla possibilità di pensare l'altro e quindi la trascendenza e quindi l'essere però è l'essere e con buona pace di Heidegger non si è ancora inventato un termine per dire l'essere e dire insieme la libertà secondo Heidegger il termine che dice insieme l'essere e la libertà è proprio evento laddove il termine che dice che nega questa simbiosi è il termine usato da Aristotele usia o toti e inai l'essere che è necessario l'essere che è sempre l'essere che non può non essere l'essere che è necessariamente cioè la metafisica effettivamente è quella filosofia che ha legato necessità ed essere l'essere è l'essere necessario San Tommaso il cristianesimo Capriole di San Tommaso l'esistenza sì certo si fa entrare quel concetto di libertà di straforo all'interno di una metafisica aristotelica e metafisica della necessità ma la metafisica di Aristotele è la metafisica di Aristotele il mio sospetto è che parlare di essere è comunque come dire farsi legare le mani dalla necessità e infatti Heidegger se andiamo a vedere che cosa è libertà per lui è quella cosa che dicevi tu è la risposta all'appello è l'obbedienza è dire sì certo se io dico sì posso anche dire no e quindi esercito la libertà ma non ho altra libertà che quella di dire sì e infatti si è visto in cosa consiste la sua libertà nel dire sì al destino e il destino si chiamava nazismo e il sì è stato il sì a quello che magari lui detestava perché poi questi nazisti non è che gli piacessero più di tanto anzi gli facevano anche abbastanza schifo ma erano il destino non si poteva non sottrarsi la sola c'è una bella differenza tra questo non potersi sottrare al destino e invece agire come invece è insatto sia pure suicidandosi è un'azione anche il suicidio ma scelta certamente su questo libertà e necessità è effettivamente così ed è qui che io vedo la difficoltà di una filosofia della libertà su base come dire ontologica evocando mettendo l'essere al centro del discorso se è l'essere l'essere io sì sarò pure il da zain il qui e ora dell'essere ma non sono altro che lo specchio il luogo il colui che accoglie questo questo benedetto o maledetto essere che in quanto essere è l'essere non è il non essere Giovanni io ho l'impressione che tu sia più heideggeriano non dico di Heidegger ma di quello che tu vorresti essere perché se tu mi dici l'umanità è vittima della metafisica dici una cosa che Sartre non dice ma Heidegger sì questo è puro Heidegger l'umanità è vittima della metafisica se tu dici la metafisica è violenza dici non solo qualche cosa che è molto heideggeriano ma qualche cosa che è vattimiano cioè è il proprio dell'interprete a mio modo di vedere in Europa e non solo in Italia più più acuto di di Heidegger la metafisica è violenza questo è Heidegger l'interpretazione di 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 vattimo ma si capisce bene anche nell'interpretazione di Giovanni Mari e allora non è che questo Giovanni Mari è un po' troppo vattimiano è un po' troppo heideggeriano ma al di là al di là di questo il problema che suscita la tua la tua obiezione è lo stesso problema e non a caso forse sollevato dalla vittoria è le Ragnis Sartre Heidegger su questo punto nonostante tutto nonostante quello che abbiamo detto io io qui ripeto sono terribilmente vicini due perché le Ragnis è precisamente l'appropriarsi della propria della propria vita che ci è data ma adesso sentirei in ballo il creatore o altri ci è data nel senso che non l'ho scelta io non l'ho non l'ho voluta io io avrei voluto essere un altro più bello più bravo più intelligente invece sono quello che sono ma sono quello che sono ne prendo ne prendo atto salute mentale vuol dire questo accettarsi e anzi in forza di questa accettazione proiettare in avanti il proprio essere questo è ecco sul fatto della vita come accettazione di un dato inerte quella che Sartre chiama appunto l'opacità l'inerzia dell'essere se se Ragnis è questo Sartre non è così lontano da Heidegger Heidegger non è così lontano ma dov'è che nasce il problema dei problemi dal fatto che nel mondo moderno questa appropriazione non c'è data secondo Heidegger questa appropriazione ci sarà data in un futuro di là da venire infatti tira fuori Dio che viene ma guarda caso anche qui i due sono più vicini di quello che sembra il Dio che viene è un'espressione che usa il Dio a venire il Dio che è soltanto sognato ma evocato dal nostro sogno e anche di Sartre quell'ultimo Sartre che tanto dispiacque a Simone de Beauvoir e ad altri ma che già uno come Levy dispiacque un po' meno e prende più sul serio c'è anche l'altro Sartre il Sartre infero cioè se c'è un Sartre della speranza un Sartre proiettato su un futuro che non è spento che non è morto c'è anche un Sartre però che messo alle spalle al muro tira fuori questa storia del gesto risolutore e del terrorismo e così come c'è Heidegger che certo aspetta anche lui il Dio che viene ma c'è Heidegger che ha gli scheletri nell'armadio che ha e non mi si venga a dire che non sono scheletri quelli che era soltanto una disavventura ci sono e come Heidegger è stato nazista c'è un che di nazista nel suo pensiero non solo nella sua scelta politica contingente proprio in un pensiero che con la libertà ha poco a che fare ma a che fare sempre soltanto col destino destino è il termine chiave che in tutte le salse nelle sue varie declinazioni non a caso torna in Heidegger il destino che lui poi interpreta schicksal come schicken e cioè come invio come appello come invito a e quindi c'è una dinamica nel destino non c'è la nera e buia fatalità dell'essere che è e non può non essere però è destino e questo destino è un elemento filosofico ahimè un po' troppo vicino se non adesso lasciamo stare il nazismo perché il nazismo è tutto meno che pensiero ma un po' troppo vicino a certe mitologie germaniche un po' troppo vicino a Wagner un po' troppo vicino a qualcosa che poco ha a che fare con una libertà e poi c'è l'ultima domanda ma la domanda rispondo assolutamente sì è quello quel libro lì in quel punto mette in bocca le cose che ho detto a proposito di 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 sì terrore di Enrico Fensi è così ha colto il punto bene allora abbiamo qualche altro minuto c'è un'altra ah sì allora Luca Tedoldi la risposta ad Heidegger sul tema essere libertà non la danno certamente a partire da un altro pianeta Schelling e poi Parison è proprio il tuo questo non so se è chiara la domanda carissima no no certo questo è il problema dove io mi sono mi sono formato è il problema di 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 Parison ontologia della libertà ontologia della libertà a partire da Heidegger sembra qualche cosa di impossibile e infatti l'ontologia non della libertà ma del destino è un'ontologia della della necessità e non della libertà è un'ontologia senza etica in hai le due domande di Boffrey Boffrey guarda che aveva la vista proprio lì era andato a parlare l'ontologia è umanistica o anti-umanistica c'è o non c'è un'etica Parison che non cita Boffrey però parte da lì l'ontologia di Heidegger ha o non ha un'etica no che non ce l'ha l'ontologia l'ontologia di Heidegger ha a che fare permette una declinazione del concetto di libertà quale che sia la libertà o no risposta no lui la causa prima o una delle cause di questo sai dove la trovava nel fatto che Heidegger era un pagano un pagano nel senso delle mitologie wagneriane che non ci sono in Wagner ma c'è il destino proprio quel destino lì c'è quel paganesimo che ignora quella mossa così astuta fatta dal dottor no il dottor Sottile era un altro cos'era dal dottor cos'era cos'era il santo Maso il dottor come? sopra il nome di Giuliano Amaro sì ma prima di Giuliano Amaro era dunse scoto ma il miss santo Maso come era chiamato? scusate con questa amnesia dottor Angelicus allora questa astuzia questa mossa del dottor Angelicus nel famoso trattatello d'esse ed essenzia dove usa le categorie aristoteliche ma in chiave cristiana questo sì è un bel ribaltamento perché introduce l'idea di grazia e grazia vuol dire gratuità e gratuità vuol dire libertà siamo al mondo per grazia di Dio e quindi a questa grazia dobbiamo rispondere a questa libertà dobbiamo rispondere nell'unico modo in cui si può rispondere con la libertà e tutto questo non c'è in Heidegger Heidegger questo lo imputa a Sartre come cosa non sua caro Sartre ma tu sei ancora lì con la libertà ma questo è San Tommaso detto a Sartre Sartre qualche pensiero gli è venuto forse non gli è piaciuto lì per lì ma se Heidegger avesse detto questo a Parison allora certo che sì quello che ci distingue è proprio il fatto che tu sei un pagano io sono un cristiano e tu in quanto pagano tienti la tua mitologia del destino io in quanto cristiano mi tengo la libertà la grazia e il peccato quello è il punto chiave che distingue i due qualche minuto ce l'abbiamo ancora se qualcuno avesse urgenza di fare una domanda prego venga qui però perché altrimenti non sentono coloro che venga venga signor non so il suo nome mi pare che questo sia già intervenuto un'altra volta dunque parlato della di Wolfenheit l'essere gettato nel mondo con qualche cosa che c'era già nell'agnosi questo mio non sapevo nulla magari puoi spiegare un po' meglio che cosa c'entra l'agnosi con questa cosa è la tesi di non mia non è farina del mio sacco ma di questo filosofo che si chiama Hans Jonas che ha fatto la sua tesi di laurea nel 25 insomma in quegli anni lì sull'agnosi antica poi questa tesi di laurea l'ha trasformata nella sua dissertazione è cresciuta è diventata e finalmente nel 1934 pubblica due grossi volumi intitolati l'agnosi antica in uno di questi di questi volumi si descrivano si descrive il mito gnostico a cui ho fatto riferimento quello di Abraxas questa strana strana figura che è un dio ma è più che dio perché non è uno degli dei è il dio degli dei questo dio che è la trascendenza che è una figura della trascendenza quindi che non dobbiamo pensare come incarnato in un dio come il dio cristiano che si incarna no è questa figura della trascendenza che cosa fa questo Abraxas questo Abraxas chiama un suo scherano un suo manutengolo di nome Arimane Leopardi che conosceva l'agnosi antica ha dedicato un frammento ad Arimane e cosa gli dice dice senti toglimi dalle scatole questi qui che mi disturbano e questi qui saremmo noi in origine cioè sono le nostre anime che fin da allora infastidivano il dio degli dei il dio al di là del bene e del male allora incarica questo Arimane di togliersi di torno di togliergli di torno gli umani cosa che fa Arimane e rimanda proprio tra l'altro gli ignostici avevano un'idea del mondo molto simile non erano dei tolemaici l'universo era infinito per loro infatti Abraxas pare che sia uno dei termini per dire l'infinito in un'epoca in cui non c'era ancora neanche l'idea neanche la nozione comunque sia in questo universo infinito fatto di galassie e galassie Arimane scaccia noi nell'ultimo dei mondi proprio che più lontano da dio non si potrebbe ecco dice noi esattamente come gli ignostici ci pensiamo ci rappresentiamo come degli esseri come delle anime scacciate da un paradiso o da un'origine finite dove siamo finiti con una differenza che loro gli ignostici credevano di sapere come era andata la faccenda appunto il racconto il mito noi invece non sappiamo assolutamente e neanche più ce lo chiediamo prendiamo atto che è così siamo qui e più non dimandare questo dice dice Jonas noi siamo come gli ignostici antichi convinti di essere gettati nell'ultimo dei mondi a differenza degli ignostici antichi non ci chiediamo chi ci abbia gettato qui ma ne prendiamo atto come di una condanna da cui non possiamo uscire questo è è la storia bene per me è stato un pomeriggio bellissimo di pensiero riflessioni e grazie a Sergio Givone che ci ha stimolato in questo senso voglio ringraziare stasera siamo quasi alla fine anche il nostro tecnico Cesare Martignon che oltre a fare il tecnico collabora molto come avete visto anche nella ricezione dei messaggi prepara tutto quindi davvero lo voglio ringraziare perché per noi è un grande supporto allora 2 dicembre per l'ultimo di questi incontri di questo ciclo perlomeno e grazie a tutte e a tutti a chi ci ha seguito anche da remoto e alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti